Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, diverse le novità dalla città e dalla provincia, sentiremo a breve le notizie di cronaca, ma parleremo anche di politica e di uno scontro che sta avvenendo in queste ore in città, poi ci sposteremo ai Livi per diversi eventi e eventi che hanno toccato poi attraverso anche la Notte Rosa la città, il comune capoluogo Ferrara, ma in questa edizione parleremo anche a lungo di sport e in particolare di Spal, ma apriamo l'edizione con la cronaca come detto e con tre ettari di campo, di stoppie e di balle di paglia che sono andate a fuoco insieme a un trattore, a una pressatrice da cui avrebbe avuto origine il rogo e quanto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Longastrino, nell'argentano è intervenuto il personale in forze dei vigili del fuoco che è rimasto sul posto fino a notte per lo spegnimento del rogo e intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, soprattutto non ci sono stati feriti ma danni appunto alla campagna e anche ai mezzi agricoli. Sempre i carabinieri su disposizione della procura di Bologna hanno arrestato un medico di 44 anni in servizio alla medicina di gruppo di Porto Maggiore accusato di spaccio di cocaina. L'uomo era in sostituzione nella casa della salute portuense, ha lavorato anche a Monghidoro e anche nel territorio bolognese e proprio dal capoluogo di regione è partita l'indagine che avrebbe smantellato un giro di droga che avrebbe coinvolto il medico che nel frattempo è stato sospeso dall'Asle 44enne e ora si trova nel carcere della Dozza di Bologna. E ora però lasciamo la cronaca per parlare di politica. Da mesi in città come nei comuni più grandi del Ferrarese campeggiano cartelloni con sfondo rosso in cui vengono riportate parole legate alla violenza sulle donne, questo secondo la regione Emilia Romagna che ha curato la campagna di sensibilizzazione. Nelle ultime ore però si è accesa una polemica politica proprio su questa iniziativa. Sentiamo. È polemica Ferrara sull'uso di termini definiti volgari nella campagna contro la violenza sulle donne promossa nel 2024 dalla regione Emilia Romagna a guida centro-sinistra. Ogni mese nei maggiori comuni regionali vengono affissi cartelloni in cui vengono riportate frasi che potrebbero preludere a violenze più gravi contro le donne. Il neoconsigliere comunale Francesco Rendine della lista civica a sostegno di Alan Fabri ha inoltrato un ordine del giorno al Consiglio invitandolo a esprimere il proprio disappunto sull'utilizzo di risorse pubbliche per diffondere messaggi con termini inappropriati. Inoltre l'esponente di centro-destra chiede alla regione di interrompere la diffusione di alcuni termini definiti volgari. Anche il consigliere Luca Caprini dello stesso gruppo di Rendine era intervenuto sulla stampa criticando la scelta della regione di utilizzare espressioni che ha definito poco consone per un'istituzione pubblica. Secondo Caprini l'uso di termini volgari non solo distoglie dal messaggio principale ma è anche inappropriato per il tipo di comunicazione istituzionale che ci si aspetta dalla regione. I testi riportano frasi tipiche degli abusi emotivi e psicologici che le donne subiscono e che spesso anticipano accompagnano la violenza fisica e l'unica cosa che dovrebbe indignare e far riflettere i cittadini è ormai la quotidiana emergenza della violenza maschile contro le donne. Questa la replica di Marcella Zapaterra, portavoce della conferenza Donne Democratiche dell'Emilia Romagna e di Ilaria Baraldi, portavoce ferrarese della conferenza. La regione fa bene a veicolare con messaggi crudi ma reali la consapevolezza in chi subisce, aggiungono le esponenti del Partito Democratico, che si dicono dispiaciute che il consigliere si senta offeso. Noi concludono, ci sentiamo offese dagli atteggiamenti sminuenti e benaltristi come i suoi. Sul sito di telestense.it trovate l'ordine del giorno di rendine in merito a questa iniziativa ma anche il comunicato stampa integrale delle donne democratiche in versione integrale. Adesso però cambiamo argomento per parlare di agricoltura. Alvia in Algeria, il più importante progetto agroindustriale italiano nella sponda sud del Mediterraneo è il progetto internazionale del gruppo BF di Iolanda di Savoia. Bonifiche ferraresi alla presenza dei ministri dell'agricoltura, quello algerino e quello italiano, Lollobrigida, in settimana ha sottoscritto un accordo che prevede una concessione di 36 mila ettari con la realizzazione di una filiera integrata semeprodotto finito, totalmente sviluppata e gestita da BF. Nello specifico l'iniziativa vedrà una volta a regime nel 2028 la coltivazione di cereali, di grano duro e tenero ma anche di legumi, lenticchie, fagioli. Tutte queste produzioni destinate al mercato locale, la prima semina è stato detto e prevista per novembre. E ora cambiamo totalmente argomento per parlare di notte rosa che è avvenuta anche a Ferrara con il concerto all'alba incertosa domenica mattina che si è aggiunto ai tanti eventi che stanno animando il centro cittadino in questa estate. Ora e sei del mattino, incertosa a Ferrara, si respira ancora il fresco della notte appena passata. I primi raggi del sole intiepidiscono l'aria in cui echeggiano le note di un evento che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso della programmazione estiva in città. In scena la pianista Gilebae con il suo concerto all'alba organizzato da Ferrara Tua in collaborazione con Ferrara Musica che ne ha curato la direzione artistica in occasione della Notte Rosa a Ferrara. Con la pianista sudcoreana trentenne sul palco c'è anche Tommy, inseparabile cagnolino che la segue a ogni passo, oltre mille le persone secondo gli organizzatori per il concerto sulle musiche di Bach, di Beethoven e Chopin. La Notte Rosa a Ferrara, visto l'apertura di Porta Paola, centro di documentazione sulle mura, rimasta aperta gratuitamente in serale con la collaborazione con la strada dei Vini dei Sapori, ora Ferrara accoglie domenica la sera in piazza di Ostea all'interno del Summer Festival Calcutta, mentre nella Nuova Darsena nel pomeriggio di domenica il Comfort Festival. E ora ci spostiamo a Comacchio per una serata di gala sui tre ponti palcoscenico della sfilata organizzata da CNA sabato sera nel solco dell'evento portato avanti da quasi trent'anni da inventato e portato avanti appunto da Giordano Conti, una serata che si è inserita nel solco, anche in questo caso della Notte Rosa con tanti eventi, ma vediamo le immagini della sfilata ai tre ponti di Comacchio di sabato sera. Il sogno di una notte di mezza estate è tornato sui tre ponti di Comacchio come l'evento fashion dell'estate, una serata inserita nella Notte Rosa, una sfilata ricca di brand importanti e collezioni, ma anche un evento a tutto tondo in cui gli spettatori sono stati accompagnati in un viaggio musicale e narrativo dagli anni Sessanta ad oggi, con momenti dedicati ai grandi temi sociali del nostro tempo, sotto la direzione artistica di Rocco Cagnè, il sogno di una notte di mezza estate, erede della sfilata moda danza e acconciature, è alla ventinovesima edizione di uno dei più longevi e fortunati eventi dell'estate, organizzato da CNA Area Delta e CNA Federmoda, con il contributo del Comune di Comacchio diverse sponsorizzazioni. La serata è stata presentata ancora una volta da Vittoria Tomasi, Alessandro Bini e l'incasso delle libere offerte degli spettatori è stato devoluto, come ogni anno alla Fondazione Teleton e Telestense e dedicherà uno speciale a questa serata nel cuore dell'estate comacchiese. E l'accoglienza nelle valli di Comacchio raddoppia, ha aperto il nuovo punto turistico a fianco del bettolino di Foce, dove i turisti potranno ricevere informazioni, ma anche usufruire del servizio del bar, ma anche di una terrazza con una visuale unica su uno dei territori più belli del Ferrarese. struttura resistente, ma è stato ristrutturato, è la zona di Foce, che implementa quello che è la possibilità di creare servizi e accoglienza direttamente alle valli. Questa struttura ha un valore importantissimo per noi perché ci permette da un lato di separare il bettolino che adesso sarà votato solamente all'attività di ristorante. Mentre la parte più ricettiva, veloce, per gruppi di accoglienza quando partono per fare le escursioni, sarà all'interno di Foce, dove ci sarà una sala di accoglienza con servizi bar e anche però il servizio bookshop e biglietteria. All'interno poi, come si può vedere, all'alto c'è una terrazza meravigliosa che è una terrazza che dà su un'intera valle e permette di vedere un panorama veramente unico e fantastico delle valli. Lì, oltre che a visitare, si possono fare veloci piccoli rinfreschi e i fenicotteri passano a pochi metri di distanza da chi è seduto lì. Quindi un'immagine, uno spettacolo unico. Naturalmente tutto il sistema è stato risistemato, ristrutturato da Rente Comunale e anche i casoni, quindi lungo il percorso completo museale che all'interno del nostro sistema, anche i casoni sono stati sotturati, sono stati riallestiti e quindi è un'esperienza, un viaggio innovativo. In più ci sono degli altri casoni al di fuori di questo servizio e sono invece adibiti a attività che svolgiamo insieme anche a gruppi di volontariato del territorio che si prestano anche a rappresentazioni teatrali con i costumi e naturalmente all'interno di queste strutture abbiamo possibilità anche di portare i nostri turisti con la canoa di sera a visitare ma anche gustarsi magari mangiando qualcosa, un contramonto in mezzo alle valli, in mezzo ai fenicotteri che è veramente un qualcosa di unico, è assolutamente importante. Considerate che questo è il sistema, la struttura di servizio che in realtà serve tutto il sistema di cicloturismo attorno alle valli e che ha l'altro meraviglioso percorso inaugurato un paio di anni fa che è appunto l'Argine degli Angeli che chiude in cerchio il sistema della ciclabilità e permette al visitatore di attraversare le valli avendo acqua e fauna, c'è lì che attorno a loro in quel momento stanno e vivono, convivono attraverso i visitatori. E come sono evoluti i territori che insistono nel delta del Po e quanto raccolto nel nuovo volume del professor Diego Maestri dal titolo Cannevie e le valli del tenimento Mesola. Seppur impegnato in giro per l'Italia nella sua vita accademica, come professore ordinario alla Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila e direttore del Dipartimento di Architettura Urbanistica dell'Università di Roma, Diego Maestri ha continuato il suo lavoro di documentazione della storia e dell'evoluzione del territorio presentato all'oasi di Cannevie a Volano, il suo ultimo volume Cannevie e le valli del tenimento Mesola che si aggiunge a una bibliografia di circa 40 volumi dedicati a questa parte del delta del Po, incontro a cui hanno partecipato tra le più alte cariche istituzionali del territorio insieme a un pubblico numeroso e attento. Questo volume è stato definito un invito a proseguire alla ricerca storica ed etnografica sull'evoluzione del delta meridionale, in particolare sulle valli di Mesola, Volano e Goro. Nel volume è stato inserito un glossario dei termini ricorrenti utilizzati nella trattazione dei diversi argomenti, comprendente termini seicenteschi, dialettari specifici del mondo della pesca del delta. Molti di questi termini infatti non sono facilmente reperibili in un dizionario comune e grazie al lavoro di maestri ora il passato di questo territorio è sempre più luminoso. Spal adesso parliamo di sport. Sono stati definiti i primi due test amichevoli che vedranno scendere in campo i bianco-azzurri di mister Andrea Dossena durante il ritiro precampionato di Mezzana in Trentino per la Spal. Il primo impegno della stagione sarà quindi l'allenamento con partita, allenamento congiunto contro i dilettanti della TNT Monte Peller. Questo si tiene giovedì 18 luglio, poi il sabato successivo invece la Spal sarà di scena a Ronzone, sede del ritiro estivo del sassuolo a calcio. Quindi sabato 20 luglio alle ore 17 affronterà proprio i nero-verdi guidati da mister Fabio Grosso. A proposito di Spal, giovedì scorso è stato il giorno di presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo bianco-azzurro, Alex Casella, che ha parlato anche di alcune situazioni che riguardano alcuni giocatori spallini. Sentiamo. Per chiudere la proposta facciamo tre nomi, Demba Tiam, Mirko Antenucci e Maestro. Sì, allora Tiam oggi è un giocatore della Spal. Personalmente ritengo che sia uno dei portieri più forti della categoria e da lunedì è chiaro che la gerarchia per quanto riguarda la porta dove abbiamo sei giocatori lui sarà portiere titolare. Dopodiché il mercato porterà delle alternative, valuteremo. Sicuramente vogliamo un portiere che possa sulla carta darci dieci punti. I dieci punti quando si può fare un campionato importante li dà un portiere che ha voglia, che sta bene, che dimostra subito grossa sintonia e affidabilità dal primo giorno. Poi nel ruolo del portiere è diverso dai ruoli di campo, quindi è importante che ci sia una gerarchia e anche importante come comunque tutti i ruoli che se qualcuno la gerarchia la vuol cambiare c'è solo un modo, lavorare più degli altri in settimana, acquisire quella fiducia nell'allenatore per fargli cambiare una scelta. Però Tiam è un giocatore che questa stagione ha dimostrato di essere un ottimo profilo. Riguardo a Dante Nucci sicuramente è un giocatore che considero bandiera, che ha scritto la storia della società degli ultimi dieci anni, molto rappresentativo, però l'ho spiegato prima in conferenza stampa. La mia volontà è quella di non concedere nulla a nessuno, perché se no sarei un ipocrita, non sarei corretto verso la città, verso il presidente, verso il ruolo che ricopro. Io da Mirko mi aspetto che lavori più degli altri, che se gli altri vanno a 100 all'ora vi vada a 101. Questo per me è essere un trascinatore, è essere un motivatore, è essere di esempio per un gruppo. Io per primo nel mio lavoro, quando voglio qualcosa da qualcuno che è un mio collaboratore, difficilmente do un consiglio. Mi alzo dalla sedia, per primo cerco di fare quella cosa e poi chiedo una mano a chi mi è vicino. Così che penso questo sia lo spirito di un leader positivo. I leader positivi sono quelli che poi alla fine ti vanno a fare la volontà. Lui sicuramente lo è, non l'ho mai conosciuto, è un grandissimo giocatore. Io posso salutare dall'unedì mattina alle 9 quello che sarà, ciò che sul campo viene dimostrato. E io ho bisogno di questo, Andrea ha bisogno di questo, la spalla ha bisogno di questo. Giocatori che trascinano, trascinano con l'esempio. L'esempio per me è avere più entusiasmo, più corso, stare meglio degli altri, andare più forte degli altri. Se no abbiamo due metri, due misure di valutazione diverse che ci fanno cadere nella non obiettività e non essere corretti con ciò che è la mentalità che noi vogliamo portare. Faccio le spostate questo discorso anche su Maestro. Maestro è lo stesso discorso, è un giocatore che potenzialmente non si capisce come mai in Serie C non abbia fatto la differenza in maniera così importante l'anno prossimo, non mi interessa neanche sapere il perché. Prendo, tiro una linea e faccio una considerazione dicendo è un giocatore che dovrebbe giocare in Serie B da titolare in 10 squadre su 20 almeno. Per stare alla spalla deve dimostrare che lui è quel giocatore lì, non quello che ogni tanto si accende e ogni tanto si spegne. Deve correre più degli altri, mettere le sue qualità e le sue caratteristiche a servizio della squadra. Questo è fondamentale e imprescindibile. Parliamo ora di football americano. Svanisce il sogno delle Aquile di Ferrara che sabato sera sono state sconfitte dai Vipers Modena per 24 a 3 allo stadio Benelli di Ravenna dove è andato in scena il trentesimo Silver Bowl, la finalissima del campionato italiano di seconda divisione della IFL 2. attacco ferrarese a secco quasi per gli estensi che seppur con l'amaro in bocca per la finale persa hanno comunque disputato un'ottima stagione che si chiude appunto con questo Silver Bowl. E con questa notizia sportiva è tutto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense. Grazie a tutti.